Si deve cercare di mantenere la passione dei tifosi e cercare di giocare per i tifosi, dare spettacolo. Penso che non basta vincere 1-0 e essere felici e contenti se non si è dato niente alla gente. Penso che la gente deve tornare a casa contenta che ha visto qualche cosa e che si è divertito. Sotto la coltria di un bar show, che c'è nel mondo del calcio. Dive ancora la coerenza di chi non ti è mai passato, al volerete il palazzo, la società dello spettacolo. A risorgare le puttane di la tv commerciale, 90 minuti con il fumo in gola, 4-3-3 alla vittoria. Vittoria! 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 Voi non con te! Ooooooooooh! Vesù! Non provo verso le suda! Via di mezzo, continuano a resistere, non fare un passo indietro mai Come uno dalla Re Maggio, come una squadra di periferia Che attacca il suo aperto, controlla Juve di Roberto Baggio 90 minuti con il fumo in gola, 4-3-3 alla vittoria Viste! Siamo con te! Viste! Siamo con te! Viste! Siamo con te! Viste! Siamo con te! Viste! Viste! Sì, spettacolarità la Spagna, più offensi, più anche del Barca Ma quale Serie A è Champions League? Lega, Pro, S&P! Viste! Viste! Siamo con te! Viste! Siamo con te! Viste! Siamo con te! Viste! 4-3-3! Viste! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.